SIGLA Secondo me ti propongo nel ruolo per dirigente interno. Davvero? Dove lo trovano uno come te, vende polizie pure i morti. Ciao, scusa, io sto cercando un taxi, sai dove sono? Se vuoi ti posso accompagnare io, va bene? Grazie. Che sa mera? Ideologia Italiana, 28. Quasi 30, ma sei fuori corso, tu mi sa un po'. Stai dicendo che sono vecchia. Il signore che è? Un mio amico. Lavorisca di documenti, per fortesia. Incensurato, no? Certo, perché? Ma perché non gliel'hai detto? Che cosa? Sono gli arresti domiciliari. Rapina. Rapina? Volevo capire come funziona questa cosa dei domiciliari. Se esce anche solo per andare a prendere un caffè, evasione. Quanti anni ti mancano ancora? Per altri due anni. Sei stalker, tu? Sei impazzito? No, che stalker. Peccato, gli stalker sono ottimi clienti. Uno qui, prima che lo arrestano. Spesi 3.000 euro in due mesi. Scusa se cammino. In carcere adesso ce l'ho in radaria. Come mai sei fuori? Il colpo della mia vita. Io lascerei perdere con la rapina. Aiuti. Poi fammi sapere la data precisa, così io mi organizzo e ti accompagno. Anche se all'inizio sembrava una cosa pericolosa. Poi invece l'amore ti sveglia. Ti fa fare cose che non avresti mai pensato di fare. Sono fregato. Pensavo che stavamo bene, sì. Ah pensa, non me ne ero accorto. Pensavo che stavo bene solo io. Mamma tua, la sera che fa? Rapina a mano armata, gravata e continuata. pure. Ale...